La turistica, ancora purtroppo qua l'illuminazione è scarsa, per cui questo primo approccio con la chiesa lo faremo meglio poi quando passiamo sulla facciata che è molto ben illuminata, molto bella, la più bella chiesa che c'è all'isola d'Elba, l'unica affrescata nel 400 all'interno e l'unica nella quale si ripete la dualità, perché doppia axide, doppio altare, due bastioni laterali, è stata un pochettino mutilata quando è stata ingrobata dalla fortezza a causa delle incursioni dei pirati, facciamo un passo indietro, vediamo che nello scacchiere europeo l'Italia è sempre nelle mire delle cupidigi dei paesi europei, soprattutto in quel periodo, soprattutto due paesi, soprattutto la Francia e la Spagna, la Francia fa questa alleanza accelerata per sconfiggere gli spagnoli e fa questa alleanza con i turchi e quindi ci sono tantissime incursioni sia nell'arciparello toscano, pianosa l'isola d'Elba vengono vandalizzate e quindi si decide di proteggere la chiesa costruendo questi bastioni e chiaramente questo ha comportato l'arretramento delle due axidi che sono state tamponate. Questo poi magari se alcuni di voi vogliono entrare, purtroppo oggi siamo molto numerosi e poi con le nuove normative diventa difficile entrare in chiesa, quindi sono molto dispiaciuta, non vi posso spiegare gli affreschi che sono molto belli, però vi consiglio di entrare essendo oggi magari in un'altra occasione che venite, a me vale veramente la pena. Pensate che la fortezza, i bastioni della fortezza poi quando dopo la guerra non si riusciva, ci sono stati questi problemi di capire a chi appartenevano le proprietà eccetera, poi ci sono state varie passaggi di proprietà, usucapione eccetera eccetera e sono privati, cioè sono stati privati a lungo, questo qua di destra è ancora privato, c'è praticamente una officina di un meccanico, l'altra avevano deciso di fare un museo, sapete che là c'è il MUM, ci sono anche alcune guide che ringraziamo, che ci aiuteranno a andare su ai Sassvitti che insomma siamo in tantissimi, quindi il museo, il MUM che è là, qua ci doveva essere anche una parte del museo, purtroppo poi per problemi legati a permessi e quant'altro i lavori sono stati interrotti, ma pare che adesso a breve forse il progetto potrà riprendere corpo e quindi qua ci potrà essere un dislocamento del museo. E niente, detto questo, quindi l'argomento di questa prima parte della serata e anche del ballo che hanno organizzato la scuola di danza, danza mania che si terrà in piazza della chiesa, verterà proprio su queste incursioni dei pirati che soprattutto due nel 53, 1553 e 55 arrivarono proprio sull'Elba, prima Barbarossa, poi Dragutta e vabbè non riuscirono ad espognare il Porto Ferraio, Cosmopoli, la città di Cosimo I che aveva realizzato questa fortezza incredibile e anche qui, insomma, si erano organizzati bene. Per cui a questo punto lascio la parola al nostro Angelo Mazzei. Bravo! Mazzei, oltre alle sue numerose doti, è anche responsabile del Museo Archeologico di Marciana, quindi se volete poi riascoltarlo... No, no, abbiamo dei dubbi sulle altre domande. Bravo! Va bene, grazie. Buonasera. Non so se si sente, buonasera. Allora, io lavoro al Museo Archeologico di Marciana, sono l'attento al museo, e vi invito, in cambio di questa chiacchierata, a venirmi a trovare lì, perché è una cosa interessantissima, soprattutto se vi interessa la storia dell'isola d'Elba e dell'Elba occidentale, in particolar modo. Sono appassionato, soprattutto, di storia preromana, quindi mi piacciono a studio tantissimo gli etruschi e le civiltà che li hanno preceduti. In questa occasione mi presto a Valéry per raccontarvi quello che è successo in questo periodo storico che lei vi ha accennato. Farei intanto chiarezza sul concetto di pirati. Quello che succede all'isola d'Elba fra il 1534 e il 1553 e anche 55 è non un attacco di pirati, ma una guerra tra imperi, in una piccola testimonianza di questa grande guerra tra due imperi che si dividono il mondo, e non sono pirati, attenzione, ma sono corsari. Questi corsari si differenziano dai pirati perché i pirati battono bandiera propria, sono indipendenti. Invece il corsaro è quello che ha una lettera di corsa dell'imperatore o del re e di conseguenza è autorizzato, appoggiato da un governo anche a battere la sua bandiera e a differenza del pirata che se viene catturato viene giustiziato, lui viene piuttosto usato come merce di scambio nelle trattative tra gli stati. Questo fenomeno dei corsari che si sviluppa agli inizi del Cinquecento in tutto il Mediterraneo ha soprattutto la sua radice tra una popolazione poco conosciuta ma che ha una lunghissima storia che sono i berberi, detti anche in quell'epoca i barbareschi. I berberi abitano tutta una zona che va dalla Libia, da Tripoli, uno dei loro porti importanti che gli veniva poi continuamente strappato dagli imperi europei, dall'impero europeo, e Tonisi, Algeri e Orano che sono tutte delle città sulla costa africana del Maghreb. Il grande conflitto è quello tra Carlo V, che è il re di Spagna, che è imperatore discendente dalle nobiltà di Paesi Bassi, Polonia, Austria, addirittura tra i suoi antenati ci sono gli sconti di Milano, quindi ha diritto a una serie di titoli infiniti. L'unica parte che non copre è la Francia, è la Francia con la quale poi tra l'altro è imparentato perché Francesco I, che è il re di Francia in quel periodo, è legato a lui, poi in seguito anche diventa suo cognato e è legato a lui anche tramite l'Austria. Sono cognate anche le nonne, Luisa di Savoia e Margherita d'Austria, che segneranno poi quella che sarà una pace storica che durerà pochissimo ma sarà storica per il fatto che saranno le due nonne che faranno questo trattato di pace che metterà d'accordo il regno di Francia e l'impero. Però Francesco I ogni volta i trattati sono fatti per essere rotti e ogni volta succede che Francesco I stabilisce delle alleanze con altri che non siano l'impero per difendersi anche dal strapotere di Carlo V. E la grande alleanza che stabilisce è con l'impero ottomano, che è un altro impero enorme che va dal Mar Caspio all'Oceano Indiano fino allo Yemen e contiene in sé tutti i paesi arabi fino all'Egitto, il Sudan eccetera e che è in quell'epoca praticamente il suo sovrano è Solimeno, Solimeno il Magnifico. Cosa fa Solimeno ottomano? Assolta e quindi fa una lettera di corsa a tutti questi pirati del Mediterraneo e del Maghreb che entrano praticamente a far parte della sua flotta. Quindi c'è una flotta barbaresca e una flotta imperiale ottomana che si uniscono alla flotta francese e che vengono qui in Italia soprattutto, Parma, la guerra di Parma dove viene anche catturato Francesco I, la guerra di Siena, la famosa guerra di Siena che si protrae fino al 1555 e poi la guerra di Corsica dove i francesi, alleati dei turchi, vogliono strappare la Corsica ai genovesi. In realtà sono alleati anche di quasi tutta la nobiltà corsa che non sopporta la già allora famosa tirchieria dei genovesi. L'Elba si ritrova praticamente come snodo di tutte queste questioni che riguardano il mondo intero perché pensate che Carlo V oltretutto c'ha anche la Kleine Benedict che è il Venezuela come discendente dell'Austria, dell'Asburgo e possiede praticamente tutto il Sud America. Quindi sono due imperi come due blocchi come ai tempi del blocco sovietico e il blocco statunitense e l'Elba si trova proprio in questo punto focale dove si combattono la sesta, la settima e l'ottava guerra d'Italia all'interno di questo. Allora sarò brevissimo, finisco con quello che riguarda invece più prettamente l'Isola d'Elba perché nel 1534 c'è il primo grande attacco all'Isola d'Elba da parte della flotta turca che sbarca a Rio, Rio Marina che allora era la piaggia del paese grande che stava a monte, Rio, e un paese ancora più grande che oggi voi non potrete purtroppo più vedere che si chiamava Grassera e che era accanto a Rio. Era un paese molto importante, pensate che a quei tempi, come recita un pannello qui dentro la chiesa, San Piero faceva 210 abitanti. Le cronache ci raccontano che quando i turchi dopo aver attaccato Rio attaccano anche Grassera, ci sono diversi grasserinchi, si chiamano gli abitanti di Grassera, che riparano a Rio e vengono salvati lì, ma la maggior parte vengono uccisi. 200 di loro vengono scamisciati, cioè demudati e incatenati e fatti schiavi e caricati nelle stive delle navi. I turchi si muovevano con 60, 100, 130 navi anche una volta attaccano lì sulla terra, navi da guerra. Questi elbani che venivano caricati, in questo caso gli abitanti di Grassera, sulle navi, venivano portati nei porti loro di questi corsari, che erano appunto Tripoli, Algeri, Tunisi eccetera, e nei mercati venivano venduti. Senonché c'è una storia molto bella e interessante che riguarda questo episodio, che è quella di Emilia D'Ercole, che è una ragazza bellissima di Grassera, che viene fatta schiava. E durante il viaggio, Kair e Din, che sarebbero uno dei due Barbarossa, si innamora perdutamente di lei e ne fa la sua compagna, al punto che la mette incinta e lei ha un figlio quando sono in Africa. Poi dopo un paio d'anni c'è un attacco congiunto della flotta imperiale, che dall'Europa parte e va lì a conquistare la città e riporta via 20.000 schiavi europei che erano stati fatti laggiù. Tra questi c'erano anche i 200 grasserenti, c'era anche Emilia D'Ercole, questa ragazza, e c'era però anche il suo bambino. E quando arrivano Jacopo VI Appiani, da Lagona, che era il signore di Piombino, saputa questa notizia che gli schiavi tornati dall'Africa non erano solo elbani, ma c'era anche il figlio di Barbarossa tra loro, lo prende e lo tiene protetto e in ostaggio dentro Piombino. E da lì parte quella che poi storicamente è il famoso assedio di Piombino, da parte di di tutta questa flotta di barbaresca. Alla fine, purtroppo, dopo vari tentativi dei turchi, alla fine Jacopo cede perché piuttosto che venire tutto distrutto, restituisce questo bambino che verrà educato all'Islam invece che al cristianesimo. La storia però va avanti con ripetuti attacchi e stragi. Quando arrivano si dice che abbrusciano, barano le case, buttano giù i tetti delle chiese, buttano sulle porte, levano l'onore alle figliole. Questa era una cosa orribile quello che facevano i bambini quando arrivavano. Quindi rimaneva soltanto un fiume di sangue, tanto dolore, tanta disperazione. Tutti avevano morti o schiavi nella loro famiglia. E' paradossale, ma questa grande paura, e qui chiuderei con questo messaggio, questa grande paura non faceva che renderli più uniti tra loro, più solidari, più forti. E' una cosa forse sulla quale dovremmo riflettere noi oggi, che invece nella grande paura condivisa forse stiamo rischiando di dividerci. Grazie.